Overnight, il progetto voluto dal comune e dalla provincia per stare vicino ai giovani e ridurre i rischi collegati per dirla in soldonia la legittima voglia di divertirsi durante i mesi estivi, torna per il decimo anno. E ancora di più è meglio rispetto allo scorso anno, quando iniziò una riconsiderazione dell'iniziativa, anche grazie ad un camper colorato che entrerà in contatto diretto con i giovani, potrà svolgere al meglio la propria opera di prevenzione. Tutti i sabati dalle 22 alla mezzanotte il camper che sosterà in piazza Unità distribuirà i buoni taxi messi a disposizione dalla provincia per garantire un ritorno a casa tranquillo dai luoghi della Movida. Luoghi che dopo la mezzanotte verranno raggiunti dallo stesso camper, i cui operatori saranno a disposizione dei ragazzi per garantire loro ascolto, ma anche per parlare di prevenzione e fornire eventualmente aiuto. Alcuni ragazzi poi collaboreranno all'iniziativa come peer educator dopo aver frequentato un corso apposito. Accanto al Comune e alla provincia, Overnight vede la partecipazione del Dipartimento delle Dipendenze dell'Azienda per i Servizi Sanitari numero 1, della Fipe, di Etnoblog, della Cooperativa La Quercia, della Cooperativa 2001 Agenzia Sociale, di Reset e delle associazioni di volontariato Alt e Astra.